Io sono un perito informatico, uscito dal primo corso che è stato organizzato dall'Olivetti diciamo in Canavese, dopodiché ho lavorato nel reparto all'interno dell'Olivetti dove si facevano le macchine di collaudo per i prodotti Olivetti. Dopodiché quest'ufficio insieme ad altri si è unito e si è formata una nuova società nel 1978 che era la Olivetti Tecnost che si occupava sempre del collaudo delle schede tramite sistemi automatici però per poterli vendere anche al di fuori della Olivetti. Nel 1986 sono uscito dall'Olivetti e insieme a mia moglie ho costituito la società Seica. Agli inizi abbiamo fatto programmi, soltanto programmi applicativi nel settore militare e civile dopodiché nel 1991 abbiamo iniziato a fare anche i prodotti. Seica si occupa dell'elettronica industriale, in particolare noi facciamo, progettiamo e vendiamo sistemi che servono per il collaudo delle schede elettroniche. L'attività è di nicchia però è trasversale in tutta l'industria dell'elettronica perché i nostri clienti potenziali possono fare l'antifurto di casa oppure l'aereo. Quindi ovunque dove si trovano le schede elettroniche noi abbiamo un mercato potenziale. Siamo 4 o 5 produttori al mondo che facciamo il lavoro di collaudo di schede. Facciamo la progettazione al nostro interno quindi tutto il progetto hardware, software e tutte le proprietà. Abbiamo buona quota di mercato in Italia, siamo leader per esempio nella Cina e in questo settore. Seica dedica una grossa parte delle risorse nella ricerca e sviluppo. C'è un gruppo stabile di una ventina di persone per stare a passo con le tecnologie dell'elettronica. Abbiamo 4 figliali nel mondo, uno in Cina, uno negli Stati Uniti, uno in Germania e uno in Francia. Oggi Seica conta 110 persone qua nella sede di Strambino ed altre 40 persone distribuite nel mondo tra le filiali e dei collaboratori. L'anno scorso abbiamo assunto 16 persone e quindi diciamo che Seica sta crescendo. Stiamo cercando anche di diversificare il mercato quindi aggiungiamo le risorse che servono. La maggior parte dei dipendenti sono locali, c'è una grande parte anche che provengono da altre regioni dell'Italia. Abbiamo qualche straniero. Sicuramente attualmente Seica è il datore di lavoro più grande a Sa Strambino. Possiamo dire che siamo un datore di lavoro di rilievo. Lavorare in Cannavese per sé è abbastanza agevole perché abbiamo raccolto quello che ha seminato Olivetti, cioè un buon tessuto di fornitori molto qualificati. Non crediamo di doverci spostare nel futuro perché appunto c'è una grossa cultura qua dell'elettronica e dell'informatica e quindi pensiamo di continuare. L'Olivetti è stata la scuola un po' per tutti qui in zona, anche perché non c'è null'altro che a livello di Olivetti che potesse insegnare e a far crescere le varie persone nella loro professionalità. Io devo dire che ho imparato tutto in Olivetti. Purtroppo diciamo che con l'uscita dell'Olivetti dalla scena è mancata in questa zona una società di riferimento, però ovviamente ci sono le nuove generazioni, quindi continuerà nel tempo. Io spero, me lo auguro.